Bentornati sul canale, in questo video molto breve a scopo divulgativo vi parlerò della fluoroprofilassi. La fluoroprofilassi è una metodica preventiva che viene utilizzata in odontoiatria allo scopo di prevenire in buona sostanza la carie dentale. Il fluoro infatti è un elemento chimico che riduce il rischio di carie perché si lega al materiale che forma lo smalto che l'idrossiapatite. Legandosi appunto all'idrossiapatite forma la fluoroidrossiapatite che è più resistente all'azione degli acidi della placca e permette anche di andare a remineralizzare lo smalto. La fluoroprofilassi si può eseguire fondamentalmente in due modi, topica o sistemica. Quella topica prevede l'utilizzo di dentifrici, colluttori e gel a base di fluoro, quella sistemica invece prevede varie metodiche come l'utilizzo del fluoro nelle acque potabili, l'utilizzo delle compresse o l'utilizzo del latte. Un eccesso di fluoro per macchiare i denti e causare la fluorosi dentale.